Un'area dance che è molto affollata e ben condita da tanti personaggi della musica dance e quindi dei DJ producer così come adesso mi piace potervi presentare un amico che abbiamo in collegamento lui è Riccardo Riomedi, buonasera Riccardo Ciao Betti, saluto a te e a tutti gli ascoltatori E un saluto va anche a te che hai accettato il nostro invito salutiamo te, salutiamo Giovanni Cocco che ci ha messo in collegamento e quindi con Riccardo parliamo un po' di quello che è il suo fare praticamente lui ha l'arte di creare musica dance, è vero? Ce ne parli Riccardo? Sì, come tutti i DJ penso che abbiano, creano un po' musica dance Anche perché sei un DJ producer quindi Sono su 360 gradi come musica Quindi viaggi un po' con la musica a 360 gradi vuol dire totalmente? Totalmente, ci sono serate che sono più commerciali, serate più house e quello dipende ovviamente dal pubblico Ecco, racconta un po' invece come nasce questa passione quindi la tua esperienza, da quanto tempo sei in pista? Sono un vecchietto ormai perché sono ben 17 anni che sono visto la ponzola Ebbè, insomma, diciamo che c'è allora un bel bagaglio culturale, musicale, dance e soprattutto delle esperienze interessanti Raccontaci anche qualche esperienza importante che ti ha visto diciamo in questo arco di tempo abbastanza lungo Beh, in questo tempo io, e parto io sono, dice, regite di un locale famosissimo in Persilia ma non so se posso dire il nome Sì, 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 tranquillo A parte io sono, dice, regite di un locale famosissimo in Persilia ma non so se posso dire il nome Sì, 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 tranquillo È il famoso Mamma Mia di Torre del Lago che in estate fa un botto di gente Bello Tramite questo Mamma Mia io sto facendo tantissime serate andiamo un po' in giro in Italia e sono grandi soddisfazioni Sicuramente, certo Riempire poi questi luoghi con tanta gente e la tua musica che suona insomma fa sicuramente piacere, è un motivo di orgoglio Senti, carissimo Riccardo noi abbiamo una playlist che ti vede protagonista con tre brani di cui mi vorrei vorrei mi parlassi di ognuno di essi per esempio partendo da Mary Love Ecco, Mary Love ci tengo tantissimo perché è il primo pezzo con cui collaboro con Giovanni e Ilaria della Cd Love che sono persone squisite e molto professionali E che salutiamo? E perché quest'estate ha fatto tantissimo successo nella discoteca dove lavoro e soprattutto ha anche avuto un bel riscontro di vendite Bene, quindi sicuramente un successo possiamo definire Sì, sicuramente perlomeno nei nostri posti sicuramente è molto successo Poi c'è una bella collaborazione mi pare di capire o comunque sia qualcosa che ha a che fare con anche un'artista italiana molto apprezzata in questo Il Giorno Perfetto Il Giorno Perfetto è di Irene Fornaciari che tutti conoscono perché è figlia di zucchero e questa è il... sono molto contento anche perché è un remix ufficiale che presto spero venga messo in vendita Anzi, secondo me Irene ci ha pensato un po' troppo Anzi, facciamo anche gli auguri perché lei sta partecipando a Cile al Vini del Mar E quindi un in bocca al lupo in questo caso E beh, certo, certo Bella cosa questa qui, dimmi pure No, dicevo che questo di Irene è un pezzo che andrà fortissimo quest'estate sicuramente Anzi, ci sono dei DJ che sono in ascolto Se vogliono avere il pezzo si mettono in contatto sulla mia pagina Facebook Riccardo Remedi, pagina ufficiale e vedremo molto di fargli l'azienda Fondamentale ricordarlo Bravo, Riccardo Remedi andate sulla sua pagina e potete prendere le informazioni inerenti quello che praticamente lui ha appena detto Vorrei che poi parlassimo di quest'ultima novità che ha a che fare insomma con questa tua produzione questo tuo fare musica che è molto bello, molto interessante dal titolo The Big Space The Big Space è l'ultima produzione assieme a Cocco è già un successo perché fa parte della compilazione It Mania 2017 nella versione deluxe quella 4G Ah, ecco, quindi insomma una bella cosa fondamentalmente Una bella cosa speriamo che abbia riscontro che ha avuto Mary Love questo ovviamente dipende anche da chi va nelle piattaforme me lo compra, costa meno di un caffè e ci aiuta a produrre musica nuova Bello, sì Soprattutto musica legale Esatto, esatto Questo è fondamentale poter anche sottolineare questo aspetto quindi sottile riferimento a chi in effetti non segue le regole ecco, diciamo così Sì, è vero? Riccardo Perché no, non abbiamo modo di di crescere di roba nuova perché se non ci abbiamo riscontro Beh, certo se non c'è il riscontro non si riesce comunque a poter fare ad andare avanti insomma fondamentalmente C'è qualcuno che vuoi salutare essendo che adesso siamo pronti a sentire la tua musica? Allora salutiamo Intanto sono sicuro che all'ascolto Giovanni Poco e Ilaria che sono di cui faccio parte del loro team E mi associo ai tuoi saluti in questo senso anche per loro E poi voglio salutare tutte le persone che ci ascoltano in particolare se ci sono i DJ Certo Perché noi abbiamo un grosso compito che è quello di far dimenticare i problemi alla gente nelle ore che suoniamo anche passiamo i dischi non suoniamo Esatto In totale relax divertendosi con la musica Abbiamo una grossa responsabilità e considerando come sta andando il mondo oggi ci spesso di riuscirci o per noi ci riusciamo a far dimenticare un po' di problemi Ci vuole Bravissimo Questo è un bel suggerimento per cui un in bocca al lupo io faccio a te per le tue produzioni Grazie Grazie per aver diciamo partecipato in Aria Dance al Beppi Show qui su Radio Inagricento Adesso abbiamo il piacere di sentire la tua musica Ti ringrazio Riccardo Ti ringrazio Ciao Ciao Una buona serata Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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